Allora, eccoci qua, buongiorno. Per iniziare, devo dirvi che abbiamo leggermente modificato rispetto ai nostri piani, diciamo così, la sequenza degli argomenti, anticipandone e spostandone alcuni, in modo che questa settimana, che è una settimana un po' monca, tra questa e la prossima, sono più giorni di festa che quelli di lezione, perché cadono giusti, abbiamo pensato di usarla come settimana, diciamo così, di consolidamento. Quindi tra oggi, domani e lunedì prossimo, perché come sapete questo mercoledì perderemo il laboratorio e il primo maggio, che è un martedì, perderemo le tre ore, andiamo a recuperare degli argomenti che ci servono, ma che erano meno importanti, diciamo di meno difficili, che sono quelli della gestione delle date con cui avete cominciato a scontrarvi nel laboratorio scorso, quindi vediamo di darvi una soluzione operativa, e la gestione delle connessioni in SQL, che in alcuni esercizi creava qualche problema. E poi le altre due ore, cioè la prima ora di domani e l'ora di lunedì prossimo, le useremo per risolvere due laboratori che ci sono sembrati un pochino più critici, almeno percepiti come critici da parte vostra. Domani faremo laboratorio 6 della volta scorsa, su cui molti si sono un po' dannati d'anima, e lunedì prossimo faremo laboratorio 4 come esempio di applicazione delle tecniche di mapping tra database e oggetti, perché effettivamente è l'unico caso in cui avevamo tre tabelle un po' complesse, un po' collegate, con relazioni molti e molti, quindi lo usiamo, non che quell'esercizio fosse difficile, ma semplicemente per illustrare un po' meglio come rappresentare i dati. Questo solo per dire. Poi dalla settimana successiva partiremo con gli ultimi due argomenti che sono i grafi e le simulazioni. Ok, partiamo con questa chiacchierata da lunedì mattina, quindi tranquilla, su date e ore. Quindi appunto chi ha provato a fare il laboratorio della settimana scorsa si è trovato di fronte a una cosa relativamente semplice, del tipo devo capire in quale giorno avviene un certo evento. Io ricordo varianti dello stesso dataset in cui chiedevo di calcolare che sono la temperatura del giorno prima o del giorno dopo. Cose semplici, concettualmente, ma quando uno poi ha a che fare così in Java o in SQL con delle date, salto fuori i casini, perché in realtà la gestione del tempo è una delle cose più complicate da far fare una macchina. Non difficili, ma semplicemente complicate, articolate, incasinate. Uno perché noi siamo malati, noi come umani abbiamo una gestione del tempo che se ci pensate è profondamente malata. Cioè noi dividiamo, in parte è colpa nostra, in parte non, nel senso che il fatto che la durata dell'anno solare sia 365 giorni è un pezzettino, questo non l'abbiamo deciso noi. Però tutto il resto sì. Il fatto che i mesi siano, va bene, sono 12, ma sono tutti di durata diversa, ci sono gli anni di bisestili, ci sono i secondi, i secondi bisestili, sapete che ogni tanto aggiungono un secondo alla mezzanotte di qualche giorno. Quindi ci sarà un giorno in cui ci sarà 23, 59, 59, poi anziché passare a 0, 00, 00, si passa alla 23, 59, 60 per un secondo e poi si passa. Quindi c'è un giorno in cui in un minuto ci sono 61 secondi anziché 60. Ci sono i fusi orari, c'è l'ora legale che tutti noi odiamo. La stessa data si può scrivere in modo diverso, ricordiamoci sempre la confusione tra le date, diciamo così, all'europea e alla data americana in cui c'è giorno, barra mese, barra anno, oppure mese, barra giorno, barra anno, oppure alla cinese dove c'è anno, mese, giorno. E quindi semplicemente vedere una data del tipo 1, che non so oggi cosa, il 23, 18, 21, 4, 18, a seconda di come la interpreti può voler dire date effettivamente diverse. E poi abbiamo effettivamente, nella nozione di tempo, tante cose diverse che possiamo voler rappresentare. Quindi istanti di tempo, intervalli di tempo, durate, date ricorrenti, eccetera, tutti concetti diversi che poi collidono in qualche modo. Allora, ovviamente tutte queste cose, a livello di linguaggio di programmazione, vanno gestite da qualche libreria. E qui ci sono solamente alcuni spunti su quanto è complicata la gestione del tempo. Questo sito qua ci dà alcune cose che noi pensiamo che possono essere giuste, alcune, o che possono essere, diciamo, quelli possibili errori di programmazione, che sono in realtà errati, no? Sul fatto che tutti i giorni hanno 24 ore, che non è vero, perché a volte hanno un pochino di più, a volte salta un'ora, dipende se state attraversando un fuso orario oppure no. Una settimana finisce e finisce nello stesso mese, che non è vero. Ci sono alcune cose ovvie, ma ci sono molte cose che dici, ma com'è possibile... Tutte queste sono false. Quindi se vi sembra normale, cioè se vi sembra ragionevole qualcuna di questa affermazione, sappiate che non lo è e ci sono dei casi particolari in cui non lo è. ci sono siti apposta, tra l'altro vi spiegano anche bene perché alcune cose non sono così. Quindi se volete farvi del male potete andare a leggere queste cose e dire quanto è complicato. Ma proviamo a dare un approccio un pochino più costruttivo. Cioè, quando diciamo vogliamo rappresentare data e ora, o tempo, informazioni temporali, cosa in realtà vogliamo rappresentare? Beh, dipende. La cosa più semplice è la rappresentazione di un istante di tempo. Cioè, adesso, l'istante esatto in cui si è atterrati sulla Luna. Allora, questi sono istanti di tempo che noi possiamo rappresentare tramite, ad esempio, anno, mese, giorno, ora, minuto, secondo e se serve frazioni di secondo. Questo è un punto esatto sulla linea del tempo. Questa è la rappresentazione più semplice. Oppure possiamo voler rappresentare delle date senza l'informazione dell'ora. Oggi. Oggi è il 24... no, quanto è? 23 aprile. Punto. Non c'è un'ora associata. Ok? Il giorno del mio compleanno, il giorno della data di nascita è una data, non ha un'ora associata. Quindi ci possono essere delle rappresentazioni parziali. Cioè, oggi non è un istante di tempo. È un intero giorno che ha una sua durata. Che raccoglie tutte le possibili ore di quel giorno. In realtà non ce ne frega niente dell'ora, perché vogliamo solamente parlare della data. Oppure solamente dell'orario senza la data. Cioè, il negozio è aperto dalle 9 alle 17. Quest'informazione qua la vogliamo dare come orario sganciata dalla data. Oppure date senza ora, ma senza neanche l'anno. Qual è la data del tuo anniversario? Natale capita il 25 dicembre. Non c'è né un'ora né un anno. Quindi è importante per noi umani avere anche delle rappresentazioni parziali delle date. In cui io dico, guarda che io ti do mese e giorno, ma non ti do l'anno. Non perché non lo so, ma perché non è rilevante, non mi serve. E attenzione che molte librerie quando tu non gli dai un dato lo mettono a zero. Allora è diverso dire 23 aprile oppure 23 aprile a zero minuti e zero secondi. Perché quella è la mezzanotte del 23 aprile. Che è un istante di tempo che è diverso dal concetto di giorno 23 aprile. Ci sono concetti diversi che se cerchiamo poi di rappresentarli come dati si incasinano. E poi ci sono tutti gli intervalli. Un intervallo di tempo. Ci vediamo tra tre giorni. Tra tre giorni applicato in questo momento da oggi. Però questo lavoro dura sei ore. Quali? Quanto? Non lo so. Dipende da quando comincio. Oppure c'è tutto il problema delle date relative. Tipico la fattura da pagare entro la fine del mese prossimo. Se sono un giorno oggi, calcolare qual è l'ultimo giorno lavorativo alla fine del mese prossimo, si fa, per carità. Oggi il 23 aprile sarà probabilmente il 31 maggio se non è festa, se no sarà il 30 o il 29, adesso non so, non lo sottomano il calendario di maggio. Però provate a farlo fare un programma. Allora, proviamo a avvicinarci a una possibile soluzione. Questi sono i casi d'uso, cioè i requisiti che noi abbiamo bisogno di trattare nelle nostre applicazioni. Questo ci permette già subito di dividere in due grosse categorie i modi per misurare il tempo. Che chiameremo tempo macchina o tempo umano. Il tempo macchina è un numero progressivo crescente. Cioè quando noi disegniamo alla lavagna su un foglio di carta la linea del tempo, è una freccia che va sempre da sinistra verso destra e il tempo scorre su questa linea del tempo sempre alla stessa velocità. Come si misura il tempo macchina? Beh, semplicemente si fissa un punto di riferimento, uno zero arbitrario, e si decide l'unità di misura, secondi, millisecondi, microsecondi, quello che vogliamo, e a quel punto il tempo diventa un numero intero, positivo o negativo, che è la distanza in millisecondi, nanosecondi, quello che abbiamo deciso, rispetto al punto di partenza, allo zero arbitrario. internamente i computer rappresentano così il tempo, come un numero intero che si incrementa a una certa rapidità e il cui zero rappresenta un certo istante di tempo. Quindi diciamo che questo tempo macchina tende a rappresentare facilmente gli istanti di tempo, l'altra quantità non tanto. se però decidiamo che il punto di partenza del tempo non è più un punto fisso ma può diventare un punto variabile, allora questa rappresentazione di tempo macchina può essere usata anche per rappresentare degli intervalli di tempo. un po' come abbiamo fatto, se vi ricordate la volta scorsa, per misurare la durata della chiamata ricorsiva è stato il tempo, un certo istante di tempo, quello è diventato nostro riferimento e poi facendo differenze per quello ci siamo trovati degli intervalli di tempo. Poi invece c'è tutta la gestione umana del tempo che non possiamo ignorare perché i nostri programmi devono fare conti con come i loro utenti, cioè noi, usano e rappresentano il tempo. Allora in questo caso è necessario che le nostre librerie riescano a rappresentare tutte le complessità giorno, mese, anno, il calendario, eccetera, eccetera, no? tutte le stranezze che abbiamo citato prima e quindi in qualche modo ci dovranno essere degli oggetti che sono in grado di gestire questa parte. E gestire cosa vuol dire gestire le date? Beh essenzialmente ci sono alcune operazioni di base, le prime due sono l'input-output, cioè ho una data scritta sotto forma di stringa, acquisita sotto forma di testo e voglio capire qual è questa data, data, ora, insomma. Quindi parsing è estrarre da un testo, da una stringa, un oggetto, l'oggetto delle classi più opportune. Il contrario è la formattazione, dato un oggetto lo voglio stampare. In che formato lo voglio stampare? Voglio scrivere 23-4-18 oppure scrivere per lungo 23 aprile 2018? puoi aprire in parole? Queste sono formattazioni diverse della stessa data. Quindi la nostra libreria vorrei che mi fornisce almeno queste due cose. Oppure creare un oggetto data o ad ora, conoscendo magari giorno, mese, anno, oppure ore, minuti, secondi. Conoscendo le sue componenti le assemblo in un oggetto di tipo data. E questo vorrei che fosse un'operazione elementare, nativa. Cioè non voglio prendere anno, mese, giorno, concatenarli in una stringa e poi fare il parsing della stringa. No? Non facciamoci del male. Se noi abbiamo i valori numerici, gli interi che rappresentano anno, mese, giorno, costruiamo un oggetto usando questi. O viceversa, estrarre alcuni componenti di una data o di un tempo dall'oggetto. Quindi ho un oggetto che mi presenta oggi e voglio sapere qual è il mese, qual è il giorno della settimana. Con una chiamata, già direttamente in modo numerico. E poi soprattutto la rimetica delle date, che sono essenzialmente somme e differenze. Tra tre giorni che giorno sarà? Che differenza c'è tra queste due date? E cose di questo genere. Chi viene prima tra queste due date, maggiore o minore? Queste sono le operazioni fondamentali che adesso cercheremo di capire nelle varie librerie come si usano. Allora, per fortuna un pochino di ordine ce l'abbiamo, nel senso che almeno a livello planetario sono stati definiti degli standard per la rappresentazione del tempo, degli istanti di tempo. tipicamente il cosiddetto tempo, una volta si chiamava l'ora di Greenwich, cioè un fuso orario di riferimento rispetto al quale gli altri orari si possono calcolare. Quindi è stato definito questo UTC, Coordinati Universal Time, che è l'ora ufficiale del pianeta. Tutti gli altri orologi si devono in qualche modo coordinare e riferire a questo orologio centrale. Allora noi, come software, molto spesso, se vogliamo ignorare i fusi orari, usiamo come riferimento questo qui. Se invece vogliamo lavorare con l'ora locale, beh, lavoreremo con l'ora che abbiamo qua. Per fare un esempio, se io faccio un'applicazione, immagino un sito web in Italia, pensato solo per italiani, allora tutto il sito lavorerà lavorando con l'ora italiana. Se però faccio qualche cosa di multinazionale, di internazionale, per cui chi si collegherà al sito proverrà dalle zone più diverse, allora un americano statunitense che si alza alle 4 del mattino per vedere il mio sito e vede che l'ora fornita del sito sono le 10, come è qua, dice che c'è qualcosa che non va. Allora in quel caso, quando il sistema deve gestire più fusi orari contemporaneamente, la cosa migliore è lavorare nel fuso orario di base e poi fare le conversioni, le somme. avanti e indietro. Quindi dovremmo già decidere se lavorare in tempo coordinato oppure in tempo locale. Dopodiché le varie time zone, quegli vari fusi orari, sono sempre spessi tramite un offset positivo o negativo rispetto all'UTC e questo offset tra l'altro è variabile. Perché a seconda che siamo nell'ora legale e nell'ora solare, la distanza dell'ora italiana dall'UTC è più uno oppure più due. L'UTC non prende mai l'ora legale, ovviamente, è un riferimento neutro. Mentre l'ora di Greenwich, cioè di Londra, assume l'ora legale in certe settimane, l'ora ufficiale, diciamo, l'UTC no, non è neutra rispetto a queste cose. E quindi noi abbiamo diviso il pianeta in una serie di fusi orari che a noi sembra una cosa semplice, in realtà non lo è. In realtà anche qui dentro ci sono milioni di stranezze. Ad esempio, non so se lo sapevate, ci sono degli stati che hanno come fuso orario la mezza ora. Non più sei, più sette, ma più cinque e mezzo. Tutta l'India, sono un miliardino di persone, ha un fuso orario più nove e mezzo, se non sbaglio. Qui dentro mi sembra una parte dell'Australia, se non ricordo male, è un otto e tre quarti, come sfasamento rispetto all'UTC. Quindi immaginate... Poi è bella la parte qua sulla Russia perché da un fuso orario a quello vicino scattano due ore. Per semplicità hanno deciso di saltarli. Quindi c'è più tre, più cinque, più sette, più nove. Ovviamente gli stati confinanti ne può fregare di meno e quindi hai un'ora e mezzo che si infila. Se studiate questa cartina ci sono delle belle... Così come questa parte grigia, che in realtà è la stessa ora, è il mediano opposto a Greenwich, quindi siamo 12 ore, indietro o avanti? E dipende. Quindi nello stesso fuso orario ci sono alcune zone che hanno, a differenza di questa riga nera che è la linea di cambio data, che hanno la stessa ora ma giorno diverso. È lo stesso istante tempo che ora sono le tre del pomeriggio. Di che giorno? Le 23 dico io e le 24 dice lui. solo perché abbiamo attraversato una linea. È un casino. Pazienza. Era peggio prima. Questa qua, di interesse puramente storico, questa è una tabella degli orari di alcune città statunitensi fornite da chi organizzava essenzialmente i trasporti ferroviari. Ogni città aveva la sua ora. Per cui quando c'era mezzogiorno, queste sono le ore in cui era mezzogiorno a Washington, non a Washington, se tu guardi Boston, che è poco sopra, come... dove è finita Boston? Beh, vediamo qua. A Chicago erano le 11.18. E 18, non 11.00. A Boston erano le 12.24. Tra l'altro erano orari convenzionali. e nella stessa città, se c'erano più compagnie ferroviarie, spesso avevano orari diversi, perché magari si sincronizzavano il movimento dei propri treni con l'orario della città dove c'era la sede centrale. Quindi, anche se lo prende la coincidenza di un treno, significava avere come minimo un diploma, ecco, per poter fare questi calcoli. Perché si poteva? Perché non c'era il telefono, e quindi non c'era la necessità di avere un tempo sincronizzato. Cioè, l'unico modo di confrontare due tempi era viaggiare da un'altra parte e confrontare l'orologio, con la precisione che avevano gli orologi dell'epoca. Poi, quando ovviamente si è cominciati a integrare i sistemi, telegrafo, telefono, eccetera, è montata sempre di più la necessità di coordinare un tempo unico in cui, se sono le 10, con inizia le lezioni le 10, siamo più o meno tutti d'accordo. Io posso decidere di dormire mezz'ora in più, ma so che la lezione iniziava in quel distante. E quindi, agganciata alla misura del tempo, ufficializzata in UTC più fusi orari, c'è anche una rappresentazione del tempo che è stata ufficializzata da questo standard ISO 8601, che in realtà fornisce una serie di formati leciti, legali, con cui rappresentare date ora. Che non sono quelli, come dire, naturali, quelli che usiamo noi normalmente per scrivere le date a mano, però sono validi, diciamo così, universalmente, e quindi sono quelli che almeno a livello informatico che dovremmo cercare di usare. E il formato della data legale è l'unico logico. Anno, trattino mese, trattino giorno. Poi loro hanno deciso per il trattino, potrebbero non piacerti ci fare lo stesso. Però anno, mese, giorno. Se ci pensate è come migliaia, centinaia e decine. Cioè vengono prima i numeri di peso maggiore. Se voi scrivete tutte le date così, avete un milione di vantaggi. Se non altro il fatto che vi vengono fuori in ordine, quando voi le stampate. L'ordine alfabetico coincide con l'ordine numerico, l'ordine di data. Vedo gente che ha delle cartelle di file, con la versione del 23 aprile, del primo maggio, eccetera. Ci vogliono 5 minuti ogni volta per capire qual è l'ultima. Se usiamo questo formato, invece, vengono tutte belle ordinate. E a una data possiamo agganciare un'ora, se ci serve, con separatore T, T per tempo, ora, minuti, secondi e fuso orario. Sfasamento rispetto all'UTC. Poi, volendo, si possono sopprimere. Se vogliamo, si possono sopprimere i separatori. Ah, maggio è 0,5 e non è 5. Perché in mese ha due caratteri, sempre. E cose di questo genere. La settimana 21 dell'anno 2017, il settimo giorno della settimana 21 del 2017. Poi posso rappresentare una data senza un anno, semplicemente mettendo un trattino al posto dell'anno. Quindi c'è una serie di rappresentazioni standard che ci permettono, almeno a livello di stringa, di rappresentazione testuale, di descrivere tutti i requisiti che abbiamo dato prima. Adesso la norma ISO non è interamente leggibile. Cioè, nel senso che, essendo il norme, l'ISO vive vendendo norme. Quindi, se la volete leggere, dovete comprarla, completa. Se no, in Wikipedia c'è un riassunto che ci serve. Ma rimaniamo sempre molto focalizzati su questo. Questo, per noi, è l'unico modo sano di scrivere le date. Ok? Ok. In Java. In Java, come hanno recepito tutte queste cose? Malissimo. Malissimo. E vi siete accorti quando avete provato a usarli. Nel senso che, in tutte le versioni di Java, fino alla 7 compresa, per gestire le date, a livello di libreria standard, esistevano due oggetti. Un oggetto che si chiama java.util.date, che è stato introdotto subito nella versione 1.0 di Java, era un oggetto troppo semplice, per quello che fa, e il 90% dei suoi metodi nella versione Java 1.1, subito dopo, sono stati deprecati. hanno detto, eh, non usatevi. No, infatti, i clip, se provate a usarli, vi dà una serie di warning. Passati forse 15-20 anni, ancora oggi è forse l'oggetto più usato per rappresentare le date. Cosa è successo poi? Che si sono accorti tutti che faceva schifo. Allora l'IBM è andata da Sun, che all'epoca era, diciamo, l'azienda che stava gestendo, inventando Java, gli ha detto, ma senti, ma io per i miei scopi interni mi sono fatto degli altri oggetti che sono un po' più furbi di date, te li regalo, no? Ti do la licenza di usarlo. E quindi c'è questo sorgente della classe calendar che è stata donata da IBM a Sun e se date non andava bene perché è troppo semplice, calendar fa schifo perché è troppo complicato. perché di fatto loro volevano provare a fare tutto, a gestire tutti i possibili calendari, compreso quello a steco o cose simili e quindi in un unico oggetto poter essere... Ad esempio la classe calendar non ha predefinito il concetto di mese o di anno perché dice, ma questo dipende dal tipo di calendario che una determinata cultura vuole avere, no? E quindi gli obbliga a fare i giri strani per poter fare le cose normali. ma la cosa più bella ancora è che i metodi offerti dalla classe calendar non erano completi e quindi per fare un certo tipo di operazione serviva ancora l'oggetto date. Cioè l'oggetto calendar non rimpiazza l'oggetto date ma devono esserci entrambi. E quindi si passa la metà del tempo passare avanti e indietro tra un oggetto che fa schifo e un altro che fa schifo uguale ma nessuno dei due può essere dimenticato. Ma perché fanno schifo? Scusate. Invece da Java 8 in avanti abbiamo un'altra libreria che cercheremo di imparare oggi che sta in un package che si chiama java.time non più java.utile che in realtà è stata la standardizzazione di una libreria precedente che c'era già perché non è che i programmatori sono stati per 15 anni a imprecare contro date e calendar si sono andati da fare e hanno inventato le soluzioni alternative che erano librerie di terza parte essenzialmente. Poi a un certo punto è stata incorporata nella libreria standard da Java 8 in avanti quindi a questo ci dedicheremo un po' di tempo. Allora, dicevo, cerchiamo di capire perché fanno schifo queste cose. Allora, cos'è l'oggetto date? L'oggetto date altro non è che un numero intero. Cioè dentro date c'è solo un numero intero, un long che è un tempo macchina che rappresenta il numero di millisecondi millisecondi, quindi il micro lo dimentichiamocelo dal primo gennaio 1970. È un istante di tempo. L'oggetto si chiama date ma rappresenta un istante. Un istante che è composto da data e ora. Perché se sono millisecondi, sono millisecondi. Quindi è pensato per lavorare in tempo UTC ma l'UTC semplificato che non tiene conto dei secondi bisestili, secondi aggiuntivi per cui a volte se misura il tempo a cavallo di un secondo lo sbaglia. Allora, già il fatto che rappresenta un istante di tempo vuol dire che il concetto di data lui non ce l'ha. Lui non può distinguere il 23 aprile dalla mezzanotte del 23 aprile. Perché l'unico modo che ha è rappresentare un istante, l'istante del 23 aprile è il 0000. Perché semplicemente hanno scelto solamente di misurare il tempo macchina. Ha solo due costruttori che sono sopravvissuti alla cancellazione dei metodi della Java 1.1. Date che ti alloca un oggetto al tempo attuale all'istante di tempo attuale attenzione che è UTC, dicevamo. Quindi se io sono qua in Italia l'ora che Date mi tira fuori non è l'ora italiana ma è l'ora di Greenwich. Quindi sarà due ore indietro rispetto ad oggi. Poi dopo quando lo stampo ovviamente lui farà la conversione inversa ma devo ricordarmi che si lavora sempre in ora coordinate e non mai in ora locale. Oppure posso al costruttore passare un long che già rappresenta questo numero di millisecondi se già ce l'avessi. Sempre si chiama date ma ha date e time dentro ricordiamocelo sempre. E poi ci sono rimasti solamente questi metodi qua non deprecati cioè ancora validi. After, before che sono dei comparatori maggiore o minore. poi ho dei metodi che sono ridicoli perché si chiamano get time e set time in realtà fanno il get e il set dello stesso numero intero che prima si chiamava date. Quindi se voglio sapere il numero, il valore in millisecondi rappresentato dall'oggetto date devo fare get time. Ma non è che il get time mi dà solo l'ora mi dà tutto data e ora mi dà tutto quel long vedete che c'è una confusione incredibile se uno legge i metodi spera di capire cosa fare leggendo il signature dei metodi non lo può fare. Set time è imposta un oggetto a un valore time che è come costruire uno passandogli un parametro che qua invece era chiamato date. È lo stesso parametro. poi c'è toString che lo converte in un formato così che non piace a nessuno un po' abbreviato un po' no e basta. Questi sono gli ultimi metodi di date. Infatti se uno vuole formattare vuole stampare delle date non usa praticamente mai vabbè in debug faccio cosa voglio ma in un'applicazione non voglio mai vedere delle date fatte in questo modo. tra l'altro in inglese punto. Ma allora dovrò usare un altro oggetto ausiliario che si chiama ad esempio date format di cui però non voglio entrare troppo nel dettaglio che essenzialmente questo date format ha questi due metodi parse e format che permettono di dire guarda tu hai una stringa che contiene una data questa data è formatata in questo modo leggila e costruisci l'oggetto date. Oppure viceversa questo è il parse. quindi il date formatter che parsifica una stringa e la converte in una data. Oppure un oggetto data che viene formattato e viene convertito in una stringa da questo date format. E guai qui ci sono alcuni esempi di usi di questo oggetto date format in cui posso impostare il formato breve lungo full long medium short oppure anche cambiare la lingua in cui è scritto eccetera eccetera. Ma come dicevo non voglio perdere troppo tempo su questo perché preferisco concentrarmi sul Java 8. Oppure se non mi piace nessuno di questi formati ne posso definire uno mio usando una classe simple date format e spassandogli il formato che voglio io. ad esempio questo che è quello standard usando dei place holder dei caratteri che dicono qui voglio il mese qui voglio il numero il giorno del mese qui voglio il giorno della settimana la settimana dell'anno eccetera eccetera. E tutte queste letterine mi danno i vari pezzettini e posso comporre il formato che voglio io. Ok. Vabbè, ci sono esempi di come si compongono queste cose. e lo stesso date formatter fa la stessa cosa in lettura. Quindi io dico guarda l'utente avrà scritto la data in questo modo quindi prendi questa stringa così sai esattamente se ti viene il giorno prima del mese oppure il mese prima del giorno la leggi e costruisci un oggetto di tipo date. Va bene. E poi abbiamo l'altra classe calendar che è in grado di fare il resto. perché abbiamo visto che date posso leggere scrivere convertire un long e basta. Quindi se voglio sapere oggi che giorno della settimana è con l'oggetto date non posso o meglio potrei nel modo più malato possibile cioè convertirlo in stringa dove c'ho il giorno della settimana day name in week o day number of week lo faccio convertire in una stringa e poi vado a leggere quella stringa. L'unico modo che ho usando l'oggetto date passare una stringa e rileggermi la stringa. E idem se voglio comporre creare una nuova data di oggi sapendo o di tra una settimana il 30 aprile non posso non ho un costruttore a cui posso passare anno, mese e giorno. Allora posso costruire come stringa e parsificarla però capite che così vai a rischiare molto facilmente di compiere degli errori. per fare cose in cui siano fare operazioni in cui sia esplicita la nozione del tempo quindi ora, mese, giorno anno eccetera devo usare dovevo usare la classe calendar la classe calendar anche lei in realtà non è altro che un long che rappresenta i mille secondi dal primo gennaio 1970 sempre uguale in realtà la classe calendar dentro contiene un numero long che è lo stesso numero che contiene la classe date ciò che cambia sono i metodi che posso usare su un oggetto piuttosto che sull'altro non sono stati capaci a fare un oggetto unico che avesse tutto, no. La classe calendar in realtà è una famiglia di classi possibili ciascuna delle quali conosce un sistema di calendario diverso per avere il sistema di calendario diciamo così una data impostata sul sistema di calendario nostro attuale possiamo chiamare metodo get instance quindi non facciamo mai new calendar e già questa è una simmetria che mentre data faccio new nel calendar invece devo avere un get instance e mi dà un calendar oh il calendar è di nuovo un nome sbagliato eh come date era sbagliato perché la data è ora calendar non è un calendario è di nuovo un istante di tempo solo che si chiama calendar mi dà un nuovo calendar che rappresenta l'istante di tempo attuale adesso e poi se voglio posso impostare un valore di tempo diverso passandogli un oggetto date quindi io calendar non posso dire imposta un numero partendo partendo se io avessi il numero long in millisecondi il numero intero in millisecondi calendar non lo accetta devo costruire un date da partire da quello nei secondi e poi fare un set time passandogli l'oggetto date ok? capite perché poi ci incasiniamo il codice set time accetta un oggetto date un oggetto time non esiste oppure c'è un metodo più furbo del calendario che ti permette di settare uno specifico campo quindi calendar.set tra parenti di mese virgola 4 poi calendar.set anno virgola 2018 calendar.set giorno virgola 23 e questo field è uno di queste costanti che sono definite all'interno della classe calendar quindi calendar.month virgola 1 e così via tutti i campi che non ha impostato non è che li ignora li imposta lui per cui se io voglio rappresentare 25 dicembre che è natale solamente come data quindi imposterò il mese imposterò il giorno e l'anno mi viene al 1970 in automatico perché calendar non può fare altro che impostare solamente una certa data quindi ci sono i default per ciascuno di questi campi se non li impostiamo tutti poi vabbè ci sono una serie di setter in cui posso passare anno mese giorno posso passare anno mese giorno ore minuti ore minuti secondi eccetera eccetera tutti gli altri campi non sono i campi che non imposto non sono messi a zero non sono ignorati ma sono messi a zero dopodichè per fare il parsing la formattazione delle date quindi leggere o scrivere da stringhe calendar non ha nessun metodo quindi se voglio leggere da file leggere da testo leggere dalla stringa io do prendere dalla stringa col date format che abbiamo visto prima creo un date e poi da questo date imposto un calendar perché voglio magari sapere il mese e il metodo per tenere il mese c'è solamente calendar o impostare il mese e viceversa se voglio stampare un oggetto calendar prima devo convertirlo in date con get time non get date perché non esiste e poi questo faccio format un giro abbastanza antipatico viceversa però è possibile fare un pochino di aritmetica con gli oggetti calendar tipo aggiungere tre mesi due settimane meno tre giorni con questo metodo add perché poi lavora sul singolo campo e poco altro quindi questo è ciò che si poteva fare con gli oggetti che cerchiamo di non usare più perché ogni volta che li usiamo è un casino invece da Java 8 in avanti da Java 8 in avanti abbiamo un modo completamente diverso di gestire le date in cui cerchiamo in modo molto più confortevole in cui cercheremo di rimanere sempre ok? ma qui ci sono due link se volete approfondirlo essenzialmente ciò che hanno voluto fare in questa nuova package è stato di avere dei metodi molto chiari con un comportamento ben definito e non diciamo così se non ti passa un parametro lo metti a zero oppure se ti manca se ti faccio il getty di una cosa che non ti ho fornito mi metti un valore che ti piace a te e non null o cose del genere quindi i metodi diciamo più definiti tutti gli oggetti di queste classi sono oggetti immutabili come le stringhe cioè una volta che l'ho creato quello è non può essere cambiato non ho nessun metodo per cambiare il valore di un oggetto tutti i metodi che modificherebbero una data in realtà costruiscono un altro oggetto modificato ok? e questo chiaramente semplifica perché a quel punto ho oggetti diversi che qui vedete qua non posso modificare un anno ma dato un oggetto aggiunge un anno e mi restituisce un oggetto diverso che ha quell'anno in più quindi si lavora con oggetti immutabili come si lavorerebbe con le stringhe e quindi non ci sono praticamente quasi dei costruttori no? è una libreria in cui non ci sono praticamente costruttori per questi oggetti che adesso vediamo quali sono ma ci sono dei metodi che li costruiscono dei metodi cosiddetti di factory che si chiamano of oppure from oppure with e of costruisce un oggetto prendendo mettendo insieme i pezzi di base ad esempio già anno, mese, giorno crea un data from costruisce un oggetto a partire da un altro quindi una data a partire da un tempo o cose del genere e with costruisce un oggetto modificandone uno esistente dello stesso tipo come concetto generale però vabbè sono una serie di metodi anche lunghi che però hanno tutti lo stesso nome una nomenclatura ben ordinata questa scelta di usare questi metodi aiuta anche a costruire delle concatenazioni di operazioni di operazioni quindi io posso scrivere delle cose del tipo oggi with temporal adjuster less than a month quindi modificale with modifica una cosa esistente modificale fornendomi l'ultimo giorno di questo mese e a questo tolgo due quindi posso creare delle concatenazioni un'operazione punto un'altra punto un'altra perché so che ogni metodo restituisce un oggetto nuovo a cui posso eventualmente applicare altre operazioni in questa java.time sono definiti questi oggetti qua eastern local date local date time local time eccetera eccetera poi entriamo nei più interessanti quello che ci interessa vedere sono queste caselle di spunta che rappresentano quali sono i campi temporali che sono gestiti da quell'oggetto anno mese giorno ora, minuti, secondi fuso orario quindi se io voglio rappresentare solamente una data ho un oggetto che mi rappresenta anno, mese, giorno e basta se voglio rappresentare una data con anche l'ora ho un oggetto che mi rappresenta anno, mese, giorno, ora, minuti, secondi e quindi uso un oggetto diverso quindi non sono obbligato a mettere i secondi minuti, secondi a 0, 0, 0 se non li voglio rappresentare ho un oggetto diverso che sa che i secondi non servono e se mi interessano solamente l'ora e non il giorno e ho quest'altro oggetto che ha ora, minuti, secondi non ha anno, meso e giorno quindi ho una sfumatura di oggetti un ventaglio di oggetti molto ampio per avere esattamente quello che mi serve voglio rappresentare una data e ora che si chiama neutro o con fuso orario e beh, ho due oggetti con e senza la rappresentazione del fuso orario che rappresentano tutti i campi anche il fuso orario oppure no voglio rappresentare il compleanno? mese e giorno senza l'anno voglio rappresentare solo un anno ce l'ho anno e mese ce l'ho solo mese ce l'ho no? qui non devo fare dei truschini per dire ma se io in realtà non rappresento una certa informazione la metto a zero o l'ignoro no, ho già mi scelgo già l'oggetto che rappresenti ciò che mi serve e manipolare questi oggetti vi dicevo si avviene attraverso una serie di nomi di metodi, perdon che hanno dei nomi regolari sono tutti metodi questi tre sono metodi chiamati factory cioè costruiscono nuovi oggetti partendo i parametri partendo da diversi pezzettini di ingresso from converte da una classe a un'altra ed eventualmente c'è il rischio di perdere informazione perché magari una classe di partenza non ha tutto e parse lo legge da una stringa quindi sono tre metodi per creare oggetti e poi ci sono questi altri metodi che modificano oggetti esistenti converte in stringa restituisce che ne so il mese restituisce l'anno get month get year cosa che non c'era prima with ritorna una copia con un elemento cambiato quindi la stessa data di oggi ma l'anno prossimo oppure questa settimana ma di sabato così del genere plus e minus sommano, sottraggono del tempo quindi ci sarà plus month plus week plus day ci sono tanti metodi che hanno iniziano tutti con queste paroline no? e poi si combinano con i vari elementi temporali quindi abbiamo questa combinazione di oggetti questa combinazione di metodi che si combinano tra di loro in modo molto semplice allora l'oggetto più utile è normalmente local date o local date time quindi local date è una data senza ora local date time è una data compreso anche un istante temporale dipende che cosa vogliamo rappresentare local perché si presume che sia rappresentato nel fuso orario locale e quindi non ho bisogno di rappresentare esplicitamente il fuso orario se avessi bisogno di rappresentare il fuso orario dovrei avere una classe che si chiama zoned date time questa qua zoned zoned date time ovviamente solo sulla date non ha senso il fuso orario non modifica la data modifica solamente l'ora e una volta che ho uno di questi oggetti posso sapere tutto ciò che mi serve senza fare giri strani passando da calendario passando da una stringa ho già tutti i getter per estrarre i campi non ho i setter per impostarli perché abbiamo detto che gli oggetti sono immutabili però avrò i with per modificarli per creare un nuovo oggetto modificando uno di questi campi allora all'interno di queste classi ce ne sono alcune che rappresentano il tempo macchina e altre che rappresentano il tempo umano il tempo macchina viene rappresentato da una classe che si chiama instant l'instant java.time.instant è la classe più vicina al vecchio date perché rappresenta il tempo in nanosecondi attenzione non in millisecondi quindi il numero long non basta dentro ne ha due long uno rappresenta i millisecondi l'altro rappresenta le frazioni di millisecondo ma questo è interno noi non lo dobbiamo vedere quindi la classe instant è quella grossomodo che rappresenta il tempo macchina in modo analogo a quello che fa date instant ovviamente non ha concetto di anni mese e giorni infatti se andiamo a vedere la tabellina comparativa instant dove era messo? era messo qua l'unica cosa che conosci sono i secondi ma non i secondi attuali del minuto attuale ma i secondi dal primo gennaio del 1970 ovviamente ci sono tutti i convertitori che ci permettono di passare da un istante a una local daytime of dicevamo che era il metodo che permette di prendere l'oggetto di una classe e convertirlo in una classe diversa poi in questo caso per poterlo convertire il fuso orario locale perché local date lavora dicevamo nel fuso orario locale instant lavora sul tempo macchina UTC e quindi è indipendente agnostico non conosce il fuso orario e quindi per poterlo adattare per sapere che ora deve mettere deve sapere in che fuso orario lo sto usando e c'è questo zone ID system default che mi dà il fuso orario del computer su cui sto lavorando essenzialmente se mi serve tutti i metodi per parsing e formatting esistono in tutte le classi quindi qualunque oggetto puoi fare format e te lo stampa puoi fare parse e te lo legge da una stringa anche se questo lo faremo il meno possibile per default il formato che ti stampano se tu non lo vai a modificare è il formato ISO standard ISO non formato strano inventato se invece non mi piace il formato in cui lui stampa le date quindi anno trattino medio trattino giorno posso modificarlo con una classe che si chiama date type formatter ha un nome un po' troppo simile al date formatter di di java vecchio ma non è la stessa non è la stessa classe però si comporta in un modo simile nel senso che ha già una serie di formati predefiniti che sono questi e poi se voglio qui ci sono degli esempi se vogliamo da prendere e copiare se vogliamo formatare le date non stiamo a impazzire dentro questi metodi oppure se vogliamo possiamo comporre un nostro formato qui la filosofia è molto simile a quella che c'era prima comporre dei formati predefiniti più dei formati custom che posso comporre mettendo insieme questi identificatori che sono molto simili non sono esattamente gli stessi del simple date formatter quindi se vogliamo formattare una data in questo modo creo un nuovo formatter specificandogli il pattern e poi semplicemente posso leggere oppure scrivere con il metodo pass o con il metodo format usando passandogli come parametro il formatter che ho appena creato quindi lui impara a leggere e scrivere nel formato che voglio io se noi lavoriamo sempre sul formato ISO meglio così abbiamo meno problemi e poi ci sono tutti dei metodi alcuni metodi altre classi di aiuto per fare qualunque cosa vogliamo fare ci serve a fare con l'aritmetica delle date quindi aggiungere confrontare o sottrarre essenzialmente sono tre operazioni che posso fare ci sono dei metodi semplicemente di somma sottrazione oppure ci sono dei oggetti più complicati che sono dei cosiddetti temporal adjuster che prendono una data o un date time e la modificano e la aggiustano secondo certi criteri allora questi metodi qua sono già metodi presenti negli oggetti normali quindi per confronto prima dopo uguale e aggiungi e togli qui ci sono l'elenco dei metodi col minus se ce ne sono uguali identici con plus posso aggiungere una certa quantità di giorni ore minuti mesi nanosecondi eccetera eccetera ciò che voglio sommare o sottrarli oppure un metodo più generico minus oppure plus 27 e qui temporal unit li posso definire una costante cioè temporal unit punto month punto year qual è l'unità di misura che voglio aggiungere o togliere la stessa cosa che chiamare il metodo opportuno di qua semplicemente qui ho i metodi che si chiamano in modo diverso qui ho un metodo unico a cui passo come parametro l'unità di misura che voglio cambiare quindi qua posso fare se voglio sapere che giorno è domani plus days uno e mi da già il local date di domani ovviamente questi sono i metodi local date time se io avessi solamente local date tutti i metodi che hanno a che fare con i minuti, ore, secondi non ci sono se avessi un oggetto time viceversa non ci sarebbero i metodi che hanno a che fare con le ore e poi ci sono dicevamo i temporal adjuster qui c'è l'elenco completo ma il primo giorno del mese l'ultimo giorno del mese il primo giorno del mese il primo giorno del mese prossimo cose di questo genere che possono servire per allineare le operazioni a quello che è il metodo di calcolo del tempo umano quindi non dovremmo mai dire oggi questo mese quanti giorni ha oggi domani oggi è il 24 23 domani il 24 però il 24 se fosse uguale a 30 aprile a 30 giorni il giorno dopo no ce lo fanno loro non dobbiamo mai fare noi queste operazioni quindi visto che c'è ci sono pagine e pagine di metodi a disposizione cerchiamo di usare quelli e non farci mai i calcoli a mano questo è se vogliamo il messaggio principale poi esistono altre due classi meno frequentemente utilizzate che si chiamano duration e period che invece misurano intervalli di tempo intervallo di tempo duration lo misura in tempo macchina e quindi essenzialmente in millisecondi anzi in nanosecondi lui dentro ragiona e come faccio a ottenere un duration uso un metodo between tra due instant between misura l'intervallo di tempo tra due oggetti instant oppure se voglio calcolare la differenza tra due date tra local date o local date time il metodo between mi restituisce un oggetto di tipo period che rappresenta sempre un intervallo di tempo a questo punto è sganciato dall'istante d'inizio ma la cui durata può essere misurata in anni mesi giorni ore minuti secondi quindi posso interrogarlo dicendo ok quanto quanto è passato quanti giorni in totale quanti mesi quanti anni quanti giorni a questi metodi che bisogna per misurare la durata di un periodo duration periodo quindi il concetto è sempre lo stesso intervallo di tempo cioè la differenza tra due istanti se questi istanti sono tempo macchina l'oggetto si chiama duration se questi istanti sono tempo umano la differenza è un oggetto periodo quindi essenzialmente il metodo che lavora che crea queste cose è between per farla breve ovviamente i due mondi in qualche modo devono toccarsi che sarebbe bello lavorare solamente con le classi java time ma a volte dobbiamo convertire da o verso le classi precedenti allora questa slide qua contiene praticamente tutte le funzioni di conversione possibili quindi se ho un calendar posso ottenere un instant se ho un instant posso creare un date se ho un date posso creare un instant essenzialmente sono le cose che serve fare quindi date.from di un instant date.to instant non non c'è date.from a local date perché dovrei conoscere il fuso orario e l'oggetto date non lo conosce il fuso orario mentre calendar conosce il fuso orario quindi se voglio estrarlo mi dà un oggetto tipo zone date time mi dà una date time con un fuso orario compreso questo questo qua è il riassunto quindi queste qua ricordiamocene se dovessimo fare delle conversioni ricordiamo che su queste slide ci sono andiamo a prendere quella che ci serve poi noi non abbiamo finito ancora perché noi queste date alla fine dove ce le troviamo quasi sempre? in un database quindi si apre un terzo mondo che è come SQL gestisce le date noi poi dovremmo mettere d'accordo tutti ok? andiamo a dare un'occhiata a come SQL gestisce le date e poi alla fine cerchiamo di capire come possiamo prendere una data da un database e portarla subito in java.time.localdate e lavorarci allora in realtà la domanda non è così semplice com'è che gestisce il database innanzitutto ci sono almeno due modi diversi di posti questa domanda uno è cosa dice lo standard SQL il secondo cosa fa MySQL che è standard solo quando ha voglia terzo punto noi in realtà MySQL ci arriviamo attraverso JDBC e JDBC farà delle conversioni tra tipi di dati SQL anzi MySQL e tipi di dati java quindi che conversioni fa? quindi ci rispondiamo a queste tre domande allora SQL come standard definisce un certo insieme di tipi quindi stiamo dicendo attenzione che se ho una data un orario nel database non lo memorizzo come var char come stringa lo memorizzo usando il tipo di colonna corretto partiamo da lì perché se memorizzo una data se un campo stringa semplicemente potrai andare a licenziarmi perché non riuscirò mai a far funzionare nulla quindi se ho una data il database SQL è pensato per gestire bene tra virgolette le date usiamo innanzitutto i tipi di colonna corretti allora nello standard SQL cosa dice? esiste una colonna di tipo date o anno medio giorno una colonna di tipo time ora minuti o secondi con una precisione di cento nanosecondi quindi un decimo di microsecondo perché l'hanno deciso così poi esiste un oggetto che si chiama timestamp ho detto pardon un tipo di colonna che si chiama timestamp che è un date un time messo insieme quindi già forse ci facciamo un po' già di parallelo poi ci sono delle varianti che si chiama time with time zone o timestamp with time zone che sono varianti di time e timestamp in cui c'è anche il fuso orario questi sono i tipi predefiniti dallo standard SQL se vado a vedere MySQL invece no MySQL ha un oggetto ha una colonna un tipo di colonna che si chiama date si è uguale allo standard no non è uguale allo standard si chiama uguale allo standard ma fa una cosa diversa perché date rappresenta la data senza ora ma con un range stranissimo primo gennaio dell'anno 1000 perché si al 31 dicembre dell'anno 9199 quindi fa base non sul 1970 ma sull'anno 1000 oppure ho un oggetto date time che analogamente parte dal primo gennaio dell'anno 1000 quindi se volete fare database storici dimenticatevelo e contiene anche ora minuti secondi date time è quello che forse è più usato poi c'è un altro tipo di colonne che si chiama timestamp che è lo standard attenzione che questo che si chiama date time in MySQL è vicino imparentato con timestamp standard quindi lo standard lo chiama timestamp MySQL lo chiama date time poi MySQL ha anche un'altra cosa che si chiama timestamp che è un valore che contiene data e ora ma questa volta parte del primo gennaio del 1970 fino al 2038 quindi è un range molto più ristretto di date e internamente rappresentato da un numero di millisecondi come il date di Java essenzialmente no? che ha queste limitazioni quindi ha due tipi di dato date time e timestamp che sono entrambi fatti da data e ora ma rappresentano intervalli diversi poi ci sono delle porcate tipo queste cose qua sotto siete sotto ma non leggetele non imparatele non usatele di una colonna che si può ogni volta che aggiorni una riga quella colonna si aggiorna si modifica automaticamente all'istante di tempo attuale no? è un trucchetto per dire io così so esattamente quando ho modificato per l'ultima volta ciascun record però è un comportamento totalmente non standard e quindi non guardiamolo time è facile ore, minuti, secondi peccato che questo time non è misurato dalle 0 alle 23 ma da meno 800 più 800 ore perché hanno deciso così e quindi si può usare sia per rappresentare l'ora del giorno come fosse un oggetto time sia per rappresentare un intervallo di tempo come se fosse una duration e poi c'è l'oggetto year che può essere dichiarato come year e allora è lungo due caratteri o come year di quattro e allora viene visualizzato un anno in quattro caratteri dove però facciamo attenzione che alcuni anni visto che lui lavora solamente dall'anno 1000 in avanti se gli passa un anno dal 69 dal 70 al 99 lui ci aggiunge davanti il secolo che può essere il ventesimo o il ventunesimo a seconda di questo range sono tutte operazioni che a un certo punto nella storia hanno avuto un senso questo serviva per passare dagli anni a due cifre agli anni a quattro cifre nell'avvicinarsi dell'anno 2000 dove prima dell'anno 2000 pensate che scriveva software negli anni 60 70 1960 mai più pensavano che il loro singolo programma 30 anni dopo 40 anni dopo funzionasse ancora e quindi ci fosse problema di capire se il loro anno era 84 se si trattasse del 1984 o del 2084 il secolo d'avanti adesso per noi è scontato usare le date di quattro cifre ma 50 anni fa non lo era affatto quindi chi ha fatto il software chi ha fatto il database ci ha messo delle pezze in qualche modo per far funzionare ancora le applicazioni vecchie ma permette di costruire le applicazioni nuove visto però adesso da noi il coseno di poi è un marasma abbastanza complicato quindi cerchiamo di evitare tutte queste stranezze quando possiamo e poi cosa che mercoledì in laboratorio sarebbe stata utile andare a vedere MySQL come tutti i database hanno pagine intere di funzioni che lavorano con le date e con l'ora quindi poi lo vedremo domani nella soluzione per sapere quali sono le registrazioni di un certo mese non devo diventare pazzo avrò un metodo che data una data adesso prendiamolo col col browser che si legge meglio avrò un metodo che si chiama month month e mi restituisce il mese della data e quindi controllerò se month la mia data è uguale a 3 uguale a 4 uguale a 5 poi devo fare attenzione se questo mese misurato partito a 0 misurato partito a 1 ma questi sono dettagli se voglio il giorno prima e il giorno dopo avrò un date add e date sub fa la somma la situazione aggiungi una certa data dei valori questo lo fa direttamente il database quindi se ci servono delle cose delle manipolazioni con la data non fate l'errore di prendere una data convertila come stringa e cercare di farvi del male poi da quella stringa magari estrarvi degli interi poi fate l'operazione su questi interi qua perdete un'ora e lo sbagliate perché di sicuro qualche caso particolare ve lo perdete quindi l'operazione per manipolare così come cioè se vi chiedo di fare un logaritmo di un numero double andate a cercare nella libreria mazza se c'è una che si chiama logaritmo non è che vi mettete a farlo a mano con le tabelle logarimiche dell'800 no? è la stessa cosa se vi chiedono facciamo la differenza tra due date andiamo a vedere nelle librerie o il database o la libreria java quali sono i metodi che ci aiutano a farlo solo perché noi in prima elementare in seconda elementare abbiamo imparato i giorni della settimana non vuol dire che siamo esperti di database di gestione delle date dei calendari dei fusi orari dei secondi dei bisestili tutte queste menate qua e quindi faremo i conticini sbagliati e ci dimenticiamo e sarà complicato gestire le cose e le faremo comunque sbagliate quindi il mio messaggio è andiamo prima fermiamoci sempre un attimo a vedere che cosa si offre o il livello database o il livello java per fare le operazioni che ci servono ok allora abbiamo detto MySQL dunque la rappresentazione delle date si un po' imparentata con lo standard con qualche deviazione ma per se non usciamo troppo dalle date del secolo corrente no non ci sono grosse stranezze però lavora nel suo mondo quando noi ci colleghiamo al database ci colleghiamo attraverso il driver jdbc il connector cosa fa il connector? il connector deve prendere dei dati che sono in SQL e costruirmi degli oggetti java allora l'operazione che fa è di rimappare i dati di SQL su oggetti che sono java.sql.date oppure java.sql.time oppure java.sql.timestamp occhio non è java.util.date non è java.util.date è java.sql.date che però questi tre signori qui sono tutti sottoclassi di java.util.date con tutte le limitazioni che ha quindi date rappresentava un istante di tempo in millisecondi ricordiamocelo sempre java.sql.util.date è la stessa cosa in un package diverso time questo però funziona bene se la date che gli passo qua ha ore, minuti, secondi messi a zero altrimenti altrimenti non da eccezione semplicemente sbaglia a fare i conti java.sql.time funziona se gli passo un oggetto date la cui data sia forzata il primo gennaio del 1970 e quindi considera solamente ore minuti e secondi timestamp è come date ma in più rappresenta anche i nanosecondi attenzione che è già voluto il date rappresentare solamente i millisecondi quindi per rappresentare i nanosecondi che poi MySQL non rappresenta completamente rappresenta solamente con la granularità dei 100 nanosecondi dentro ha due oggetti che sono un date e un intero questi oggetti qua 1,2,3 sono gli unici che sono supportati nel mio result set punto get date get time oppure nel prepare statement punto set cioè noi facevamo set int set string per passare i parametri se dobbiamo passare una data possiamo fare un set date un set time e l'argomento di queste set date set time devono essere questi oggetti qua del package java.sql quindi in qualche modo derivati da date e la regola di conversione è questa se la colonna MySQL era date lui rimappa quei valori in java.sql.date se la colonna era date time lo rappresenta come java.sql.timestamp idem se la colonna era timestamp noi sappiamo che sono diversi ma vengono mappati sullo stesso oggetto java se la colonna era time lo rimappa su time se era year è un casino perché lo mappa su java.sql.short come intero oppure su date a seconda di un secondo parametro che gli passo come discriminatore queste sono le regolette che ci dà il connector j di come lui è in grado di estrarre questi tipi di colonne occhio c'è anche un metodo get string che funziona sempre cioè io posso sempre chiedere al connector restituiscimi il valore di questa colonna come stringa poi però sono tutti fatti miei riuscire a capire cosa c'è scritto lì dentro anno mese giorno col trattino con la barra in che ordine quindi non facciamolo mai se devo solamente prendere e visualizzarlo forse ma neanche perché poi sono obbligato ad usare il formato che mi ha dato il database quindi non pensiamo che averlo come stringa sia una scorciatoia e ci impedisca di andare a capire cosa fare qua quindi riassumendo provando a mettere insieme il tutto cosa fanno cosa supportano questi oggetti timestamp ed apt che sono quelli che ci interessano qua essenzialmente delle stranezze dell'anno allora java.sql.date per fortuna supporta due metodi che sono un toLocalDate oppure il contrario valueofLocalDate vuol dire che se io leggo dal database una data ok il metodo getDate del driver del driver jdbc mi restituisce un oggetto java.sql.date io quell'oggetto subito dopo lo posso convertire in un oggetto localDate del java.time senza neanche guardarlo ok? viceversa se io ho un oggetto localDate e lo voglio passare al mio database posso costruire un oggetto java.sql.date nuovo chiamando il metodo valueof a partire dall'oggetto localDate che io possiedo quindi è sempre possibile ed è anche facile convertire un localDate in date e viceversa avanti e indietro la stessa cosa con timestamp timestamp di java.sql che ho messo qua sotto che lui si può convertire da e verso un localDate anche lui ovviamente perdendo scusate un localDate time oppure verso un instant a seconda che noi stiamo pensando a un tempo umano un tempo macchina questo disegno qua leggermente è sbagliato scusate perché timestamp non va verso localDate ma va verso localDate time come c'è scritto qua giustamente perché il timestamp ha anche l'ora non ha solamente la data quindi questo disegnino qua va aggiornato scusate e qui lo è lo stesso disegno più in grande dove c'è già l'istruzioncina java da usare per fare questo tipo di conversioni questo vuol dire che i metodi le classi java.sql praticamente non useremo mai o meglio l'interfaccia di JDBC le usa ma noi subito passeremo al mondo java.time le classi java.util calendar date non usiamo invece mai possiamo non averne bisogno possiamo non usarle mai ok se ci dovessero capitare per le mani ricordate che c'era quella slide in cui c'era anche lì il metodo di conversione quindi il consiglio è impariamo a usare i metodi di java.time e tutte le volte che per forza dovendo usare una libreria più vecchia abbiamo a che fare con gli oggetti precedenti convertiamoli subito quindi suggerimenti pratici evitiamo sempre java.util se nessuno ce li impone noi li introduciamo e usiamo sempre gli oggetti di java.time usiamo sempre il nome il tipo corretto di colonne il database quindi c'è una colonna questo ho visto in alcuni di voi stupore del tipo ah ma questo qua è una colonna di tipo data no? probabilmente nel corso di base dati non vi hanno hanno approfondito questo aspetto no? lo vedete anche se vedete id.seql ve la coloro in modo diverso no? è un colore per gli interi un colore per le date un colore per le stringhe quindi lo riconoscete subito se ho un oggetto appena letto il database lo converto subito in java.time e quindi tutti i metodi del dao avranno come interfaccia sempre solo java.time così come ci siamo obbligati a dire guarda che i metodi del dao devono avere come interfaccia come signature solamente oggetti del model del package model e quindi nulla di java.sql deve uscire dal dao e questo vale anche per le date nessun oggetto deve al di fuori del dao il package java.sql e quindi anche java.sql date java.sql time oppure le loro varianti più brutte java.util.date non devono mai uscire dal dao il dao è dove si fanno le cose sporche dove purtroppo si fa i conti con le stringhe che sono la query.sql eccetera eccetera ma fuori dal dao sono tutti oggetti puliti quindi se io mi definisco un mio oggetto per rappresentare che ne so una misura della temperatura tanto per fare esempio di quel esercizio dentro avrò un campo che non è un date ma sarà un local date sempre e il metodo del dao restituisce oggetti che dentro hanno local date e quando possibile ricordiamocelo sempre adesso che cominciamo a fare esercizi un pochino più articolati il database è un database quindi già tante elaborazioni il database le sa fare da solo se devo fare una media di valori ma ho un database sotto mi devo prendere i valori io e farmi la somma io a mano in java? no c'è average c'è sum e faccio fare il database il quale mi dà già il risultato non mi dà i singoli valori quindi ricordiamoci sempre che c'è più di un modo di fare le cose cerchiamo di far lavorare per noi il database quando possiamo far lavorare per noi le librerie quando possiamo e solo se nessuno fa il lavoro ce lo dobbiamo fare noi questo però richiede spesso di fermarsi un attimo a chiederci cosa mi serve adesso risponderci magari non so che esiste la funzione che fa tutto per me ma devo pormi la domanda magari esiste me lo chiedo piuttosto che tuffarmi a scrivere codice mi fermo un attimo e cerco di vedere se c'è già una soluzione spesso la risposta che mi do io personalmente è ci deve essere per forza perché non sono il primo sulla faccia della terra che ha bisogno di questo allora andiamo a vedere se c'è o se c'è qualcosa che si avvicina piuttosto di buttarsi lì a scrivere codice e poi soprattutto io sono una persona pacifica ma divento violento quando vedo cose di questo genere ok? di gente che comincia a fare dei giri mortali prendendo una data estrendo sotto string convertendo intero sommando uno confrontando se è maggiore di 12 se è minore di meno uno cioè questo qua è una specie di tentativo che uno fa per dire domani ah domani è day più più però a parte che day che cos'è da dove lo prendo eccetera ma attenzione adesso siamo alla fine del mese allora qual è la fine del mese? dipende dal mese dipende dall'anno se hai bisogno di stile oppure no e allora potrei voler cambiare il mese ma se sono a dicembre devo cambiare anche l'anno cioè e allora vedi dei blocchi di codice così che di sicuro hanno dei bacchi dentro ma di sicuro ma perché nessuno riesce a scrivere le giuste queste cose qua al primo colpo e quando in realtà c'è già il metodino che te lo fa ok? quindi se vi viene in mente ho una data la converto in stringa oppure ho una stringa che contiene una data estraggo un pezzettino cancellate quel pensiero se pensate di fare aritmetica con i singoli pezzi delle date cancellate quel pensiero perché non ne uscite lo dico per esperienza mia e i studenti che sono minuti prima di voi non se ne esce se c'è una cosa di questo genere 99 su 100 c'è già la soluzione fatta da qualche parte allora noi lo vedremo domani applicato all'esercizio del laboratorio 6 e abbiamo finito stranamente 5 minuti prima qui qui qui